Arco Profile è nata negli anni 70. Questa piccola impresa familiare attiva nel mondo tessile passa a servire il mondo della metà meccanica. Dalla rullatura grob siamo passati ad esempio due reprime in Italia. La dentatura con macchina Fels è migliorata notevolmente la qualità del profilo del dente. Lavorando il 99,9% con mercati esteri abbiamo importato in azienda il concetto di sostenibilità già da più di dieci anni perché i nostri clienti principali in Europa vengono dai paesi nordici e quindi si sa che l'attenzione all'ambiente e all'ecologia è nata, penso anche sviluppata, molto di più in quelle zone. Quando ci siamo trasferiti in questo capannone abbiamo come prima cosa ricoperto tutto il capannone con i pannelli fotovoltaici che ci danno circa a pieno regime il 35% dell'energia attualmente consumata. Grazie a questo impianto fotovoltaico puntiamo a risparmiare 830 tonnellate di CO2 l'anno. Tutto quello che viene scartato dalle nostre macchine viene selezionato e ciò che riusciamo cerchiamo di rimetterlo nel ciclo produttivo. Con la VC Vision riesco a fare un programma partendo da zero e facendo sì che l'operatore possa andare a controllare il pezzo e essere tranquillo del lavoro che sta facendo. Cerchiamo di evitare lo scarto attraverso anche questi controlli. Se l'operatore facesse ancora a mano come facevamo una volta piegherebbe tra i dieci minuti e un quarto d'ora e dovrebbe avere un set di strumenti diversi tra loro per riuscire a controllare le varie specifiche. Questo sistema viene definito come sistema a prova di errore quindi l'influenza dell'operatore è praticamente nulla. Penso che avere una macchina del genere il vantaggio sia quello di dire ho la certezza una volta misurato sono a posto, vado avanti con la commessa il risultato ce l'ho subito ed è affidabile. La macchina facilita molto l'esecuzione di queste misure che invece in modo tradizionale dovrebbero essere eseguite sul banco con tanto di squadra e strumenti tradizionali. In questo momento storico non troviamo personale sul mercato è un problema condiviso da tutte le aziende del territorio. Una difficoltà, un ostacolo, un problema può diventare veramente un'opportunità di innovarsi e quindi abbiamo pensato a costruire questa scuola per operatrici meccaniche ma anche altre attività che stiamo facendo sono nate proprio dal bisogno di trovare soluzioni diverse. Tu vai a lavorare felice e contento di andare a lavorare metti a disposizione dell'azienda e dei tuoi colleghi tanta creatività, voglia di innovare, idee e ti senti anche libero di esprimere te stesso e questo porta a una pluralità di idee, di punti di vista che è il varo valore aggiunto poi dell'Arco Profile. Grazie a tutti. Grazie a tutti.